Lo stop a Iveglioni dovuto alla pandemia da Covid-19 non ha fermato la solidarietà e l'impegno verso che in difficoltà. A Chieti, al centro di accoglienza Capana di Betlemme, gestito dalla comunità Papa Giovanni XXIII e diretto da Luca Fortunato, oltre al cenone di Capodanno verranno distribuiti 100 pacchi a senza tetto e a famiglie in stato di indigenza. L'iniziativa prende il nome Voglio stare con te. A causa degli aumenti dei contagi abbiamo moltiplicato le attività, quindi ci sarà un gruppo di noi che scenderà in strada alla provincia di Chieti e Pescara e andremo dai nostri fratelli senza fissa di mora, porteremo loro questa cena calda, un regalo, e proponendo invece a chi di loro vuole di venire in Capanna, dove abbiamo preparato una sala solo per questi fratelli, in cui se venissero sarebbe bellissimo. Per gli altri poi, gli altri amici senza di mora che invece già hanno aderito, appunto abbiamo preparato una bellissima cena qua, ci sono giovani che saranno in mezzo all'ora, che animeranno la serata, scopo è proprio l'amicizia e l'avere qualcuno vicino, non la cena in sé. E in più poi abbiamo invitato diverse famiglie, persone anziane, persone sole, però abbiamo deciso di consegnare questa cena ottima, preparata da un ristoratore tiatino, a casa, affinché possano consumare questo pasto bello di Capodanno, però a casa, proprio per evitare purtroppo questo solito discorso, questo rischio un po' che ci sta preoccupando tutti, ma almeno abbiamo lasciato questo segno importante. Siete ormai da diversi anni accanto alle persone che sono in stato di bisogno. La pandemia in che misura sta penalizzando le persone che assistete? Innanzitutto al di là del problema sociale che aumenta, della povertà che aumenta, ma c'è questa nuova povertà che non è tanto nuova ma sta dilagando, che è la salute mentale sia degli adolescenti, preadolescenti, anche degli adulti. E quindi questo porta ad un disagio naturalmente molto, molto, molto maggiore. C'è un maggiore proprio isolamento poi scelto, non c'è più il desiderio o il credere che ci possa essere un presente e un futuro migliore. Quindi per questa maggior ragione il progetto nostro si basa proprio sulla prossimità, sugli accompagnamenti, sulla presenza, fare un po' d'angeli custodi nella quotidianità per contrastare questo aspetto dell'isolamento e di lasciarsi andare.